Prego, Consigliere. Allora, Presidente, non è in dichiarazione di voto, ma semplicemente perché da un confronto con il Consigliere Fassina e dall'esame della mozione abbiamo visto che è un tema che per quanto riguarda gli obiettivi ci vede, diciamo, concordi. Tuttavia è una mozione che va approfondita e va analizzato il testo verificandone la fattibilità in base alla normativa vigente, sia regionale che nazionale. Pertanto io chiedo al Consigliere Fassina di ritirare la mozione e di poterla quindi riesaminare immediatamente dopo la discussione sul bilancio, quindi a gennaio, in Commissione urbanistica. Mi prendo l'impegno quindi di riportare il testo della mozione in Commissione già dal mese di gennaio. Grazie.